Lavoratori del centro turistico del Gran Sasso in assemblea con i sindacati questa mattina. La situazione per loro non è rosea dopo lo stop della funivia dal 1 maggio per la sostituzione delle funi. Operazione complessa che purtroppo comprometterà la stagione estiva, ma forse pure quella invernale. Se per i dipendenti si potrà accedere a qualche soluzione per gli stagionali è davvero nera. Parliamo di gente che lavora al centro turistico anche da 15-30 anni e che ha età difficilmente ricollocabile. Il primo incontro con i vertici del centro è stato infruttuoso. Impattiamo oltre 40 lavoratori, 21 a tempo indeterminato, con varie tipologie contrattuali, purtroppo anche quelle povere dai contratti a sei mesi. Purtroppo il piano presentato all'azienda nell'incontro scorso è un piano ridicolo perché prevede sostanzialmente il sacrificio in carico ai lavoratori e null'altro. Quindi non c'è nessuna ricognizione nel sistema delle partecipate per ricorrogarne alcuni. Mentre assistiamo contemporaneamente all'azienda della raccolta dei rifiuti che ha preso l'appalto per il verde pubblico di oltre 600 mila euro che ovviamente dovrà ricorrere al personale interinale. Quindi manderemo dei personale a tempo indeterminato sotto l'ammortizzatore sociale mentre da altre parti si continuano a fare assunzioni. Credo che questa condizione non sia accettabile. Parliamo di personale che dà servizio a questo ente da più di 30 anni. credo che meritino altro rispetto anche perché non sono loro la causa di quello che sta accadendo.